C'era in aula anche il principe del foro, il professor Franco Coppi, oggi a Pescara per una delle più importanti udienze davanti al gruppo Guido Campli nell'ambito dell'inchiesta Housework. A difendere infatti i fratelli Toto è sceso in campo l'illustre principe del diritto penale per difendere gli imprenditori coinvolti nell'inchiesta in cui il principale indagato è il sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso accusati di corruzione e a richiedere nei loro confronti il non luogo a procedere per le accuse legate all'appalto sulle aree di risulta. Ma ascoltiamo cosa ha dichiarato per un'ora davanti al gruppo Guido Campli e successivamente ai nostri microfoni l'avvocato Coppi. Noi riteniamo che la procedura amministrativa che ha portato alla giudicazione successivamente risolta della gara sia assolutamente corretta e che non si rilevino quindi dei motivi di sospetto, di favoritismi da parte della pubblica amministrazione in favore dei Toto e che quindi anche quelle prestazioni, voli, vacanze passate insieme eccetera eccetera non abbiano nessun collegamento con la gara. Quindi queste non sono rilevanti come corruzione proprio perché non hanno nessuna finalità di indurre la pubblica amministrazione a compiere atti di favore verso Toto e per quanto riguarda la gara è una gara rispetto alla quale tutti sono stati posti nelle medesime condizioni per potervi partecipare. Non vi è stata nessuna alterazione di quello che noi in gergo chiamiamo il favor partecipazione se cioè l'incentivazione di tutti a partecipare e quindi non riusciamo a comprendere in quale misura possano essere stati violati quegli interessi che la norma intende proteggere. Del resto i rapporti tra Toto ed Alfonso erano amicali prima di quel momento in cui vengono contestati i fatti? Sì, noi non siamo voluti scendere su questo terreno perché le considerazioni che abbiamo svolto in punto di diritto ci sembravano tali da superare anche questo aspetto. Comunque uno dei motivi che toglievano un motivo di perplessità in ordine alla condotta di Toto è proprio il fatto che queste due persone si conoscevano da un'infinità di tempo. Mi pare di aver capito che uno dei due è stato padrino di battesimo del figlio del nipote dell'altro quindi sotto questo punto di vista vi sarebbero mille giustificazioni di queste prestazioni. Ma ripeto, è proprio la impostazione dell'accusa che a nostro avviso è sembrata più che fragile e proprio del tutto inconsistente, senza bisogno di arrivare a sollevare questo tipo di problema. Queste le ragioni addotte dalla difesa di Carlo Alfonso Toto dunque. Per loro l'accusa è corruzione in quanto per il GIP Deninis nell'ordinanza. Carlo Toto avrebbe messo a disposizione di Luciano D'Alfonso un aereo per i movimenti suoi e dei suoi familiari ai quali avrebbe fatto avere anche biglietti gratis, la disponibilità di un'auto con autista per tre anni dal settembre 2004 al gennaio 2007. Il tutto è nell'affare delle aree di risulta, il doppio appalto. Avete sentito le ragioni per le quali il ruolo dei fratelli Toto viene ridimensionato dalla loro difesa. Del resto si tratta dei più noti tra i 26 imputati nell'ambito dell'inchiesta Housework, forse la principale delle quattro aperte dalla procura pescarese sull'ex sindaco Luciano D'Alfonso, considerato dal PM Gennaro Varone il referente di una vasta associazione che coinvolge imprenditori, funzionari pubblici e uomini a lui vicini. Associazione dedita reati contro la pubblica amministrazione, episodi di concussione e corruzione legati agli appalti sui cimiteri e soprattutto sulle aree di risulta, proprio con i coindagati Toto. Nelle prossime udienze continueranno a parlare gli altri difensori, compresi quelli dell'ex sindaco di Pescara. Si andrà ad una decisione conclusiva di questa udienza preliminare prima delle vacanze natalizie.